Ciao Fenix Community, Dario Zocco Ramazzo con Veika e in questo caso abbiamo Viva per il mercato nazionale che ci segue come Fenix Digital Group da vicino negli sviluppi della tecnologia Veika dai Mets. Presentiamo in fiera diverse novità e ce le facciamo introdurre direttamente da Viva. Viva, cosa puoi dire sulle grandi notizie che abbiamo durante la FASPA oggi e per la in questa FASPA presentiamo tre nuovi finissimi di media. Il primo è una media silver, è una molto buona forma di mostrare effetti metallizzati, puoi improntare tutte le colori, puoi avere siano, real siano, real magetta e molto buona finissima. Allora, shall we go to another media? Un'altra nuova media che abbiamo è chiamata suede o velvet, per esempio. La cosa più grande è la sensazione di più, è la sensazione di più. Quindi sembra come una media regularna, ma è un'altra, 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 quindi non sembra più come plastica. E' molto interessante per i ricchi, come e l'ultimo, non l'ultimo, è il GOLD MEDIA questo è il GOLD MEDIA, con alcuni color color ma potete anche avere il GOLD MEDIA, con la struttura e l'ultimo, non l'ultimo, non l'ultimo quindi dipendendo sull'ultimo che voglio avere potete usare con colori o con altri colori e cosa puoi dire sulle nuove applicazioni per la struttura, grafica e la struttura al principio DIMENS era una macchina per wallpapers ma noi e i nostri clienti stiamo ampliando le bordi e abbiamo alcuni nuovi applicazioni come un esempio, questo è un materiale in un'azienda o in un'azienda che è stato fatto con la struttura e con la struttura con la struttura con il GOLD MEDIA e cosa puoi dire per la struttura e per la struttura e per la struttura con la struttura con la struttura e la struttura con la struttura o le scoperte con la struttura con le scemole che sono solo 100 pei e poi si puoi appare e poi anche impiezi diamant materiale sull'impasto e per la struttura creare un'ottima effetto e smoothing leite e il effetto Grazie a Viva per il tempo e l'applicazione che sta mostrando. Fenix Community, ci vediamo a Vespa. Ancora due giorni operativi pieni, venite a trovarci, siamo sullo stand A5, padiglione A5, stand G55. Grazie a Vespa. Ciao.